Un buongiorno amici di Yant.it, siamo all'epilo di Mondo Calcio di martedì 24 novembre e giustamente il mister non è potuto venire giovedì scorso la puntata mensile ci sono da trovare stamattina, lo ringraziamo, al di là dell'amicizia e dell'affetto che penso che sia reciproco, però era giusto che Ottavio venisse anche perché i risultati parlano da soli, è giusto, se lo merita per tutto quello che ha fatto e quello che sta facendo insieme a lui il collega e il cura dei reati con Luca Bassotti, buongiorno Luca quindi diciamo un po' stamattina abbiamo un po' il meglio per quanto riguarda il calcio giocato e anche la stampa. Ottavio, io guardo solo i risultati per quelli che sono i dati, giustamente la Samba dopo 8 partite aveva fatto 20 gol, subiti 15 e adesso dopo 31, cioè dopo 13 partite siamo arrivati a 31 fatti e 16 subiti, quindi in 5 partite Samba che ha fatto 11 gol e ne ha subito uno soltanto, sarà casuale oppure c'è la mano tua? Ma sicuramente anche un po' di fortuna e la bravura dei ragazzi in questo momento ha fatto sì che magari non prendiamo gol perché poi l'unico gol preso è venuto sul rigore contro la Miternina, non c'è solo la mia mano perché poi con me collaborano anche Gigi Goldattorni e gli altri collaboratori, il preparatore atletico e il preparatore portiere Gianni e Simone, quindi abbiamo cercato di lavorare soprattutto sotto questo aspetto e le cose stanno andando bene però il campionato è ancora lungo e bisogna rimanere con i piedi per terra e cercare di continuare a fare quello che stiamo facendo perché questa è una squadra che se non prende gol il gol durante la partita riesce sempre a farlo Ecco quindi tu giustamente quando hai preso in mano la squadra hai pensato innanzitutto diciamo a cercare di cambiare un po' questo problema difensivo che insomma sì si cercava sempre di fare gol però dopo ogni volta la palla andava a dire si prendeva gol quindi hai cercato di ridare un certo equilibrio a questa squadra e penso dai ragazzi che hai non hai avuto tanti problemi perché sono dei seri ragazzi professionisti No no questo è un bel gruppo, un gruppo di ragazzi seri fatto di tanti giocatori che ne siamo 26 quindi gioco forza qualcuno dovrà lasciare questo gruppo magari quelli che hanno meno spazio però è un gruppo serio di lavoratori non è stato difficile inculcare diciamo così una certa mentalità anche se c'è ancora molto da lavorare ripeto questa è una squadra che il gol lo faceva facilmente ma lo subiva anche con una certa facilità quando parlo di difesa io non parlo solo del reparto difensivo ma proprio di atteggiamento di squadra quindi la squadra in questo momento è una squadra compatta che lotta su tutti i palloni forse a livello estetico qualcosa abbiamo lasciato per strada abbiamo fatto vedere poco anche se poi domenica con la Folgore Falerone abbiamo fatto secondo me una delle partite migliori da quando sto qui e anche domenica su un campo brutto parlo del terreno di gioco contro una squadra ostica come la Jesina abbiamo concesso forse un tiro in porta dopo 5 minuti dell'inizio della partita su un fallo laterale per il resto non abbiamo fatto mai tirare in porta la squadra avversaria e non abbiamo non siamo stati mai impensieriti abbiamo siamo stati molto cinici questa è la cosa che mi fa piacere perché questa è una squadra che ha capito che ci sono partite dove devi essere bello e partite dove devi essere dove devi essere concreto e tosto e quella di domenica è stata una partita fatta in questo momento anche perché sappiamo insomma che a Jesi siamo stati un po' i pro e i contro grazie Ottavio Luca concordi con il mister anche perché dai dati che ho dato io insomma penso che non ci siano tante altre cose da dire non perché credo sia finito però un più 9 sulle seconde e un più 10 sulle terze comincia a essere un divario abbastanza importante ma questo sicuramente sì non si può negare che le cinque vittorie consecutive ottenute dalla Samp proprio dall'avvento di Palladini abbia dato uno scossone veramente forte al campionato e mi auguro che sia lo scossone determinante per l'obiettivo finale tra l'altro proprio ieri mi sono divertito un po' a vedere le classifiche degli altri gironi per pesare proprio quello che è l'effettiva consistenza di quello che è riuscito a combinare la formazione rosso-blu e ho visto che solamente in un girone cioè quello B dove c'è il Piacenza in testa alla classifica che ha 10 punti di vantaggio sull'Eco quindi solamente il Piacenza riesce a mettere un vantaggio superiore rispetto a quello della Samp nel girone F addirittura il Parma che è un po' il come dire la società faro in questo campionato di Serie D che era scesa dalla Serie A ha solamente 4 punti di vantaggio sulla seconda che è il Forlì quindi questo sta a testimoniare dell'ulteriore dimostrazione di quello che la Samp è riuscita a fare soprattutto in queste 5 giornate è stato bravo Ottavio perché comunque non era una cattiva Samp quella che ha ereditato perché ha preso una formazione rosso-blu che era prima in classifica con il migliore attacco doveva solamente registrare dove le cose non stavano andando bene è riuscito a registrarle quindi credo che queste 5 vittorie consecutive non siano venute a caso ma che abbiano sicuramente una collocazione importante e soprattutto una spiegazione logica delle cose Domenica ascoltando abbiamo avuto anche la simpatica impressione del Presidente Fedeli che era in cabina con voi e spesso si lasciava andare a delle battute che arrivavano anche per radio quindi che effetto avete avuto tu e Sandro anche perché giustamente il Presidente è una persona molto sanguigna che per certe cose mi ricorda Cauci No no ma non è un'impressione io devo dire la verità mi sono molto divertito Domenica poi ci si diverte anche perché i risultati sul campo favoriscono il divertimento il Presidente Fedeli si è prestato moltissimo a questo non ero da solo nella cabina c'erano altri 4-5 colleghi abbiamo passato veramente un pomeriggio piacevole ma al di là di questo va sottolineato lo spessore del Presidente Fedeli al quale auguro di restare veramente tanti anni a San Benedetto perché una cosa importante ho sentito dire da Palladini nei giorni scorsi ho accettato questo incarico perché sento che con questa società si può fare qualcosa di importante che può crescere anche a delle categorie dove ambiamo sicuramente e quindi ritengo che sinceramente il primo vero acquisto di quest'anno è stato il Presidente Fedeli la famiglia Fedeli al quale penso che tutta la tifoseria deve tributare un grande applauso perché alla fine di tutto io credo che sia la persona giusta dopo tanto tribolare che possa far risalire la San Mettese nei professionisti anche perché giustamente dopo tante sofferenze ma io quello che più mi fa piacere è stato questo avvento di Ottavio perché non ci dimentichiamo che due anni fa il campionato l'aveva vinto contro tutto e contro tutti perché l'avevamo seguito personalmente quindi tornare a rifare quello che è successo due anni fa non è facile ma guarda io voglio sottolineare una cosa è stato molto intelligente Fedeli quando ha preso la decisione di esonerare Beoni io credo che l'abbia fatto anche a malincuore perché tutto sommato Beoni è una persona con i suoi pro e con i suoi contro però comunque si è restaurato un determinato rapporto con il tecnico Aretino però la decisione di dare in mano la squadra a palladire secondo me è stata una decisione saggia e la più giusta che ci fosse se l'avesse presa il duo Moneti-Bucci insieme con Arcipreti nella passata stagione invece di andare a farne una questione di orgoglio con l'associazione Noi Samb io penso che la San Mettese forse invece di fare un campionato deludente come ha fatto la passata stagione avrebbe potuto raddrizzare la situazione e forse chissà staremmo a parlare magari con un anno di anticipo di cose ben più importanti ma anche perché per chiudere poi dopo sentiamo Ottavio per la parte finale mi ricordo l'intervista fatta al Presidente mi disse ma io giustamente non sapendo che c'eravamo sta persona dentro casa anziché andare a pescare fuori perché non metterci una persona che è già questo momento si però voglio dire alla fine ok il Presidente magari non è molto presente durante la settimana lo è una volta ogni sette giorni ma chi è presente con la testa e anche col fisico è il figlio Andrea Federico il quale comunque ha costruito un determinato rapporto con Ottavio Palladini sin dal suo arrivo quindi sicuramente Andrea Fedeli ha conosciuto sicuramente meglio Ottavio Palladini e questo penso questa conoscenza l'abbia riportata al padre che si fida moltissimo di quello che fa il figlio e ha vallato ovviamente la decisione concordo pienamente per chiudere con Ottavio parliamo di queste ultime quattro giornate fino al Giro di Bova adesso abbiamo due gare interne canatese agnonese il Chieti fuori e poi l'ultima con il San Nicolò non ti chiedo perché giustamente tu l'hai detto prima siamo con i piedi per terra perché non si è vinto si vince a maggio però è giusto che insomma adesso lavori anche con una certa più non tranquillità però una certa concretezza perché sai che hai un materiale sul quale puoi fare affidamento no sicuramente sì i risultati ti danno fiducia ti fanno lavorare bene quindi anche stima ai ragazzi sì sì su quello che fanno durante la settimana questo è un gruppo che lavora sempre al 100% diceva giustamente Luca il valore aggiunto ma non è perché adesso voglio fare delle sviolinate a qualcuno ma la Samba l'ha trovato con l'arrivo di Fedeli che non fa mancare niente ai ragazzi e quindi chiede giustamente sudore e fatica perché veramente i ragazzi sono trattati come giocatori professionisti e quindi questo è un dato molto importante quindi noi dobbiamo pensare partita dopo partita pensare alla Recanatese che sarà una partita difficilissima contro una squadra che ha degli ottimi elementi Reduce anche della vittoria importante sul San Nicolò quindi con la doppietta di Miani che sembra un giocatore che in questo campionato ha fatto molto bene quindi sarà una partita difficile ma noi il nostro obiettivo lo sappiamo benissimo qual è quello di cercare di vincere perché il presidente ce lo chiede e perché anche la classifica ce lo chiede però usando la testa il motto che ho fatto da quando sono arrivato è che ci vuole calma, pazienza e fino adesso i ragazzi mi stanno dando una grossa mano e quindi spero che continuino su questa strada Ottavio io ti ringrazio tantissimo la teatra d'amicizia che regna con la tua famiglia da tantissimi anni però sei sempre un caro ragazzo è una persona seria e professionista e professionale e quindi sono contento che ti ritrovi al Tribuna della Samba dopo due anni per metterci ancora quel qualcosa come facesti il 2020 io vi ringrazio e ripeto fare il salto di categoria per noi sarebbe fondamentale ma non per me ma per la piazza per il presidente che investe e secondo me abbiamo ripeto trovato la persona che ci può ridare veramente lustro a una società che negli ultimi vent'anni ha trovato ha sempre tribolato ha sempre tribolato quindi vincere per noi sarebbe fondamentale perché poi lui ripeto investe già sta pensando a un campo per fare gli allenamenti sta pensando a tante cose quindi i risultati potrebbero ancora di più diciamo così avvallare quelle che sono le sue idee grazie Ottavio un buco al lupo per domenica a farci risentiamo grazie Luca grazie Carlo per la presenza costante ai nostri studi e grazie a voi per l'ascolto a domenica prossima grazie a tutti i nostri studi grazie a tutti i nostri studi grazie a tutti i nostri studi